Ho maturato la decisione di abbandonare la presidenza di ASM Vendita e Servizi perché gli impegni aziendali legati a Piber Group stanno portando via molto tempo impedendomi di dedicare ad ASM la quantità necessaria di ore per portare avanti i progetti di questa azienda. Queste in sintesi le parole del dottor Paolo Bergaglio, presidente della consocietà dell'azienda di Via Pozzoni che questa mattina ha annunciato che nei prossimi giorni rassegnerà le sue dimissioni. Devo dire che ho maturato la decisione di abbandonare la presidenza di Vendita e Servizi non certamente per quello che c'è scritto sui giornali o per motivi politici o strani ma semplicemente perché gli impegni aziendali, le attività che abbiamo, i clienti che abbiamo contattato e che stiamo fornendo all'estero specialmente mi stanno portando via molto tempo. Vi sono attività interne che stanno prendendo più tempo del previsto quindi in sostanza non riesco a dedicare ad ASM e Vendita e Servizi una quantità adeguata di ore per portare avanti in modo efficiente l'impegno della presidenza. Conseguentemente a fare data ai prossimi giorni darò in modo formale le mie dimissioni. Il socio unico che poi è ASM e SPA sarà in grado sicuramente di trovare un degno sostituto e un valido sostituto per portare avanti questa carica che richiede appunto un impegno superiore a quello che io posso dedicare. Parole di stima e riconoscimento sono arrivate dal presidente di ASM Sergio Bariani. Di ASM Vogueira e SPA e ASM Vendita e Servizi sono state fatte molte cose molte cose interessanti nell'interesse delle due aziende e quindi della città. Una è stata l'ingresso di ASM Vendita e Servizi nel consorzio Un'Energia degli Industriali della provincia di Pavia. Lo sapete che tutti gli industriali della provincia di Pavia o la maggior parte di questi sono consorziati in questo consorzio energetico per l'acquisto di energie elettriche e gas alle migliori condizioni di mercato e chiaramente seppur il SEM Vendita e Servizi ha delle quantità di energie e gas vendute molto importanti. Fare squadra, fare sistema con tutti gli acquisti delle varie industrie della provincia di Pavia comporta un forte incremento delle quantità e chiaramente un potere contrattuale superiore e quindi prezzi più bassi dell'energia elettrica e del gas. L'altro traguardo molto importante è stato quello della chiusura dell'accordo con Acea relativa a Vogueira Energia Vendita che come sapete era una società in liquidazione già da alcuni anni e quindi l'accordo con Acea era un accordo complesso, molto complesso, abbiamo lavorato molto bene in questi mesi e l'accordo è stato sottoscritto nell'interesse senz'altro di ASM portando un risultato che era decisamente migliore rispetto a quelle che erano le premesse iniziali. Quindi si è partito da un testo, siamo arrivati e siamo riusciti durante la trattativa a ottenere condizioni migliorative e quindi questo aspetto, questa società che poteva diventare un problema per tutto il gruppo ASM perché era una società appunto in liquidazione con dei forti crediti nei confronti di Acea questa cosa è stata definitivamente sottoscritta e poi si passerà dal notario nelle prossime settimane ma l'accordo sottoscritto è già vincolante. Bergaglio non è Ignazio Marino, non cambierà idea, sono invece le parole scherzose del vicepresidente Paolo Affronti che ha ringraziato il presidente di Missionario riconoscendo che il suo impegno ha ricoperto un ruolo fondamentale nei bilanci positivi dell'azienda.